Cosima sostiene che non verrai neanche se sono io a dirtelo, ma io ti invito ugualmente. Insieme a noi ritroverai te stesso. Che tu sia benedetto, ti amerò a qualsiasi decisione tu prenda. Che tu sia benedetto, ti amerò a qualsiasi decisione tu prenda. No, non andate mio caro. Perché scrive solo ora? Nel giorno del compleanno di Wagner è stata posata la prima pietra del teatro, ma si sono guardati bene dall'invitarvi. Se vogliono qualcosa, che vengano loro qua. Sono arrivati, maestro. Cosima, piccola mia. Vi prego, papà, dimentichiamo tutto il passato e cerchiamo di essere di nuovo felici insieme. Ricard. Questo è il vestibolo. E questa qui è la platea. Sì. Qui invece c'è la fossa dell'orchestra. È situata in basso, più in basso del solito. Così, in questo modo... Ma dimmi, questo non disturba l'acustica. No, è proprio il contrario. L'acustica è buona. Il pubblico non potrà vedere l'orchestra, solo lo spettacolo. E avete già provato? Sì, Ferenz. Sarà una delle meraviglie del mondo il mio teatro tedesco. È molto sobrio. Sì, solo il vestibolo sarà un po' più ornato. Capisco, è interessante. Ecco, questa è la piazza che vi dicevo, maestro. Dove c'è il mercato del pesce. In quel palazzo sorgerà l'accademia. Il vostro desiderio si è avverato. L'accademia musicale ungherese ci sarà. Per ora è ancora in funzione la scuola di scherma di Friedrich. Ma si trasferiranno presto. Tre fori, il ministro ha affittato l'intero palazzo per l'accademia. Sono 16 vanni. 6.000 fiorini per 6 anni. Questa sarà la vostra abitazione. È modesta, è un po' piccola, ma... No, a me basta, va bene. Piuttosto, a che punto è il concerto di beneficenza per il teatro di Wagner? Wagner ha detto che viene soltanto se noi gli garantiamo un incasso netto di almeno 5.000 fiorini, maestro. Capisco. Si può fare mettendo dei prezzi molto alti. La stampa sta già protestando perché Wagner raccoglie il denaro destinato al suo teatro proprio qui. Il guaio vero, cari signori miei, è che i biglietti non si vendono. Questa situazione può essere salvata soltanto da voi. Una volta, quando ero a Pietroburgo, hanno domandato a Rubinstein se voleva prendere parte a un concerto di Liszt. Lui rispose che, per far piacere al grande Ferenz Liszt, non soltanto avrebbe suonato, ma anche ballato, se necessario. Io faccio la stessa cosa con Wagner. O forse ancora di più. Ecco, mia cara. Maestro Wagner, noi abbiamo pensato di organizzare la serata in questo modo. Nella seconda parte del concerto, musica wagneriana. Nella prima parte, Liszt, le campane di Strasburgo. Beh, per quanto i wagneriani di Pest, tra i quali conto anche me stesso, riterrebbero più opportuno un programma esclusivamente di Wagner per sostenere il teatro di Bayer. Va bene. Per quanto riguarda la mia cantata, la ritiro volentieri. Niente affatto. Non se ne parla. Franz, ma non lo penserai seriamente? Ma non lo so, Riccardo. Siamo tutti molto stanchi. È stato il viaggio e poi questa notte in albergo non siamo riusciti a dormire molto. Mi occuperò oggi stesso di un'altra sistemazione, signora Wagner. Sono tranquillo, Riccardo. In questo modo riuscirai ad avere un incassonetto di 5.000 fiorini. È una goccia in mezzo al mare. La costruzione costa più di quanto credevo. Solo un miracolo può salvarmi. E questo miracolo sarai tu. La costruzione costa più di quanto riguarda la mia. La costruzione costa più di quanto riguarda la mia. Ciao. E questo è un miracolo. Lo so. E questo è un miracolo. Grazie a tutti. 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 Vedrai, farò anche quello, ma devi credermi Caroline, io questo lo devo alla mia patria, ho promesso, ho accettato e perciò lo devo fare. Io ho la malaria, sai Franz? Forse non mi rivedrai mai più non essere crudele, ti prego, non lasciarmi adesso. È con grande rammarico che devo annunciare che un ostacolo imprevisto ha impedito al maestro Ferenz List di essere presente alla cerimonia di apertura della nostra accademia musicale. Ma abbiamo la sua assicurazione per iscritto che entro breve tempo, come è suo preciso e fondamentale dovere, verrà qui ad occupare il posto che gli compete e, per citare le sue stesse parole, a prendere parte donando le sue migliori energie alla costruzione e all'organizzazione della nostra opera. Cosima ha abbracciato la fede protestante per amore di Wagner, sarà dannata in eterna. Cosima è uno spirito nobile ed è degna di quello che San Francesco chiamava il grande perdono. Quel Wagner è soltanto un volgare ebreo. Oh, ti prego, è ridicolo. Suo padre era un impiegato della polizia bavarese e poi lui stesso è un antisemita. Il padre di Wagner era Geier, l'attore ebreo, che la madre di Wagner era sposato... Comunque Wagner è un compositore geniale. Tu non devi andare a Bayron. E invece io ci vado, il mio posto è là. Non hai più nemmeno un briciolo di dignità. Puoi andare dove tutti festeggiano soltanto Wagner, per sostenere il ruolo di una miserabile comparsa. Ah, a che punto è l'oratorio di San Stanislao? Me l'avevi promesso. Ci sto lavorando, ma è sbagliato il libretto. Tutte scuse, è che non riesci più a comporre. Va pure in pellegrinaggio a Bayreuth a trovare l'ispirazione nella musica di Wagner. Ti ringrazio, ti ringrazio tanto. Mi ha seguito tu. Tornata è il primo piatto. E' un pescente piatto. Tornata è il primo piatto. Non ha seguito ogni cosa. Il primo piatto è un piatto. La madre è un po'perdola. La madre è un po'perdola. La madre è una persona di un piatto. Non ha seguito di lavoro. Non ti ringrazio tanto. L' bardola è un po'perdola. Non ti ringrazio tanto. Grazie a tutti. E' Janusz Richter. Vedi, quello è Ludwig di Baviera, mio protettore ed amico. Verrà solo ad ascoltare le prove perché non vuole incontrarsi con il Kaiser. Grazie a tutti. C'è qualcosa di magico. È una musica che affascina, come tutta la musica di Wagner del resto. Mio caro signore, devo dire che quello che sta succedendo questa sera in teatro sembra un miracolo. Non ho mai visto tanta gente così. Vorrei chiedervi che quando riferirete di questa serata a sua altezza, facciate presente al nostro sovrano che Franz Liste si rammaricherà per sempre che questo trionfo non sia toccato anche al teatro di Weimar. Avete visto di cosa siamo capaci. Dunque, adesso, cari signori, toccherà a voi continuare. E se lo vorrete veramente, d'ora in poi sarà questa l'arte. Certo, non intendo dire che fino adesso non ci siano state forme d'arte, non è questo. Ma è che a noi tedeschi mancava una vera arte nazionale. Come l'umanità si è inchinata di fronte a Dante, a Shakespeare, a Michelangelo e a Beethoven, così mi inchino io di fronte al genere del grande maestro Richard Wagner. Qui tra noi c'è una persona che ha avuto fiducia, ha creduto in me quando nessuno mi conosceva. Senza di lui non avreste sentito neppure una nota della mia musica. Quest'uomo è Franz Liste. Eccoci di nuovo a casa nostra. È bello tornare. Eh sì, per Wagner il Festspielhaus e a me l'Accademia Musicale sul Mercato del Pesce. è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.